Caffè, caffettiere, caffenomani, ex caffenomani Ma che differenza c'è tra noi? Come apporto caffè, ovviamente, paura Non mi piace L'unica cosa che succede, da Italia quando giro mi porto la caffettiera Quella va registrata, che non c'è niente, adesso c'è già la base eccetera Quella è come un basso elettrico, bacchette, io voglio fare con le bacchette, non con le spazzole Certo E registriamo quella, così Quella è l'ultima parte che manca, perchè lei possa sovranci due violini Perchè lì sopra c'ha quelli otto, tutto il resto c'è la chitarra C'è la chitarra e la voce C'è la chitarra, la voce e click C'è lì come li facciamo noi C'è la polvere caffè di stasera Cioè la parte è lì che ne so la polvere caffè Però quella c'è tutta la base C'è la fine Quindi sono cinque Un giro di otto, un giro di sedici e poi si taglia il cappello Non c'è più Quindi otto giri, un altro piattone, un altro piattone, poi esce E c'è tempo comunque per uscire, cioè uno riattacca subito Per cui E niente, ci sono queste cinque cose da fare Alcune più complesse, alcune meno Ma no, vabbè, non ha molto senso